Credo che noi abbiamo diritto ed è lecito, è ovvio, è giusto fare tutte le domande possibili e immaginabili per capire, ma c'è una domanda che è cardine nella nostra vita ed è questa. Cosa aspettiamo a dedicare la nostra vita al bene? Perché alla fine la nostra salvezza dipenderà solo da quello. Quella è la domanda delle domande, a cui ciascuno di noi deve dare una risposta vera. Prego. Buonasera a tutti, io sono Alessia e innanzitutto vi ringrazio per tutto quello che fate ogni giorno e per il sapere che tramandate. La mia domanda è questa. Nell'Apocalisse si parla dei due testimoni e io volevo sapere chi fossero, cosa significassero e in che epoca ci troviamo dell'Apocalisse biblica. Grazie. Prego, prego Giorgio. Nella epoca della Bibbia ci troviamo all'apertura del settimo sigillo. I due testimoni sono Enoch e Delia. Questo ti posso dire. Sì, poi avrei chiesto Alessia. No, in che epoca ci troviamo e poi se è possibile, quindi come aveva detto Giorgio che ci troviamo nell'epoca, cioè io ho sentito in vecchia conferenza che ci troviamo nell'epoca dei due testimoni e che quest'epoca dura sui tre anni. Sì, sono due epoche conseguenti. L'epoca dei due testimoni si interseca con quella delle coppe. Quindi mentre una si sta chiudendo, l'altra sta iniziando. Ok, va bene. Questo l'hanno, gli extraterrestri l'hanno anche detto attraverso il fenomeno dei cerchi nel grano. Quindi siamo di fatto nell'ultima fase dell'Apocalisse, l'ultimissima. Poi ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Grazie.